Sono già partiti? Sono già partito il video, siamo in una serata estiva al Boulder Bar, io sono Davide e sul canale Arrampicata Golden volevo spiegarvi e presentarvi una via che ho provato adesso una volta e sono caduto come una pera, quindi volevo ricaderci sopra e farvi vedere quanto sono diventato vecchio, grasso, una nullità. Senza maglietta allora. E niente, e quindi volevo dirvi, ecco via, poi diventa forno eh, però non infanzavi, eh, la pancia pelosa, le tette sudate, un sessantenne. Che bestia, maestro. De-monetizzato subito il video. Un sessantenne che scala. Stai monetizzato. Stai subito, se me la ricordo. Tre, quattro, cinque. La via è 7b, non è neanche alto dura ma io faccio poco stifo. Ok? Uno, due, si deve toccare, uno, due, accoppiato. Non fai così, due e tre. Non ci l'ho, sai? Non ci l'ho. Certo che quando la sai è facile. 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 Certo che la sai è facile. Certo che quando la sai è facile.